Vittoria a Porta Blindata e i gol degli attaccanti. Per la Fidelisandria, abituata a una stagione complicata, l'1-0 di domenica al Degli Ulivi contro il Fasano ha rappresentato una boccata di ossigeno in chiave salvezza. Nella domenica del ritorno alle antiche certezze, come il gol di Loris Palazzo, tornato a colpire gli avversari dopo più di un mese a secco, o la Porta Blindata, per la quarta volta in cinque presenze da Stefano Tarolli, merito di un reparto difensivo che ha trovato la quadra soprattutto nelle gare interne. Parola di Davide Porcaro. È importantissimo per noi perché ci dà fiducia, ci dà consapevolezza dei nostri mezzi e di come stiamo lavorando. Quindi questo ti può semplicemente portare a giocare un po' più spenserati e consapevoli. E tutto questo fa sì che la squadra si può esprimere anche al meglio dal punto di vista offensivo. Un altro dato da non sottovalutare è l'attitudine a vincere gli scontri diretti giocati in casa. Era successo contro la Gelbison in avvio di 2020, è accaduto contro Francaviglia e Gropoli, ci si è ripetuti contro il Fasano, squadra che veleggia a più cinque dalla zona play-out ma che certo non si è presentata ad Andria in tenuta balneare. Probabilmente il saper di dover vincere ci dà quella carica in più, quella consapevolezza e ci ha fatto dare qualcosa in più. È stata un po' la svolta di questo 2020. Quella sul team di La Terza è stata la vittoria della grinta, della corsa e della determinazione doti esibite per 90 e passa minuti dai bianco-azzurri di Favarin che per l'occasione ha varato un centrocampo baby. Il solo Iannini affiancato da quattro under come Zingaro, Langone, Sambù e Nannola. Tempo di bilanci per l'esterno classe 2001 ex Barletta. Il centrocampo anzi si è un ringiovanito e ha dato più dinamicità, più freschezza al centrocampo e diciamo in campo si sono visti i risultati. Il marzo di Porcaro e Soci si è aperto con il sorriso, quello di chi ora è a più quattro sulla retrocessione diretta e vede il dodicesimo posto, il primo utile per evitare i play-out e oggi nelle mani del Brindisi a meno due. È brutto fare i calcoli però secondo me a 40 si fa fatica a salvarsi perché ci sono altre quattro squadre a 34, altre a 32, a 31, si corre forte, non solo avanzi, soprattutto dietro. È una salvezza difficile però si può arrivare. Ciò che Favarin chiede ora alla Fidelis è continuità fuori casa come sin qui raramente è accaduto in stagione. A partire dalla trasferta di domenica a Nardò contro un avversario a quota 27 punti, due in meno di Giannini e compagni. Può essere la partita della svolta per uscire da questa sottovia di risultati e quindi rifiutare un po' per la classifica e anche perché da qualche parte, come dice il mio, questi punti fuori casa che dobbiamo iniziare a fare.